Buonasera e buona domenica a tutti dal vostro giorno. Faccio questo video per ragionarvi su una situazione del mercato in entrata per quanto riguarda l'Inter che comincia a prendere una piega decisamente interessante. E' notizia infatti di questa sera da parte del mio amico che stava dalla Francia tramite il suo amico collaboratore Gigi che nelle prossime ore Sabatini sarebbe addirittura in procinto di sbarcare a Parigi con l'obiettivo di andare a trattare i tre giocatori che abbiamo parlato molto spesso ultimamente. Il primis anche il di Maria, il secondis Lukas Moura e poi il nome di Krikowiak. Questo ottimo cetocampista polacco di circa 29 anni, ottimo giocatore senza dubbio che a quest'anno, che nella scorsa stagione al Palis San Germain ha trovato poco spazio e che sicuramente potrebbe prendere in considerazione l'Inter come trampolino di lancio per rilanciarsi anche in ottica del futuro mondiale 2018 che ricordiamo verrà disputato in Russia. Quindi ragazzi, da questo punto di vista il mercato di entrare nell'Inter dopo un mese esatto di attesa si sta muovendo finalmente e penso che nelle prossime ore, per migliori, nei prossimi giorni o settimane avremo sicuramente di che parlare. Ovviamente, ripetiamo ancora una volta, finché non ci sono firme sul tavolo e quant'altro non si può dire assolutamente che è fatta o conclusa una trattativa. Però le speranze che una di queste tre trattative che Sabatini starebbe portando avanti assieme ovviamente all'insedimento del Palis San Germain per Handanovic che sarebbe quindi anch'esso in orbita francese ma questa volta acquistabile dal Palis San Germain stesso è comunque che nelle prossime ore, nonché nei prossimi giorni o per migliori, nelle prossime settimane ne sapremo di più. E come detto, c'è una buona possibilità che almeno uno dei tre possa vestire la maglia nell'azzurra. Ovviamente passo passo controlleremo l'esito delle trattative come gli eventuali sviluppi e ovviamente speriamo che un giocatore di questi tre menzionati possa finalmente sbarcare in maglia nell'azzurra per dare non soltanto il suo nazissimo contributo ma anche e soprattutto per dare la svolta a questo mercato di entrata che fino ad ora, entrata di screener a parte, quel buonissimo prospetto slovacco di cui abbiamo parlato negli scorsi video è ancora, diciamo, deve decollare per bene. E come ha detto il mio amico Luigi per regalo a Luigi Inter che qui saluto la speranza è che questo luglio ci regali molte soddisfazioni dal punto di vista del calcio mercato. Quindi ribadisco il mio pensiero che è anche il nostro pensiero. Secondo noi l'Inter potrebbe prendere uno al massimo due top, anche se qua dipenderà tutto dalle uscite che l'Inter avrà in mente di fare. E assieme a questo uno barra due top verranno innestati ottimi giocatori che saranno utilissimi a coprire le falle che la squadra attualmente ha, che qui non sto a citare. E a proposito delle trattative in corso parliamo di Dalbert. Dalbert ha già rifiutato una proposta a 18 milioni di cerca promeniate dall'Arcel ha dato assoluta priorità con l'Inter. Priorità all'Inter con la quale è già stato fatto tutto da tempo quindi sono state apposte le cifre del contratto e la durata di esso però c'è sempre comunque da fare i conti con la presidenza del Nizza che è una presidenza particolarmente tosta. Paragonabile quasi in Italia la presidenza della Lazio che è sempre molto listia, cede dei propri giocatori per meglio dire, li cede ma ha le sue condizioni. Quindi anche qui, pur ritenendo che lei, che la trattativa prima o poi possa sbloccarsi occorre tanta tanta pazienza. Perché ovviamente, perché è arcinoto da un lato l'intenzione ferma di Dalbert di vestire l'enazzo, ma dall'altro c'è da affrontare lo scoglio della presidenza di Tsarda che è uno scoglio non indifferente e il mio amico Cristiano dalla Francia saprà confermarmi meglio questa cosa della particolare esigenza della presidenza della squadra della Costa Azzurra, insomma. Quindi ragazzi, con questo bel aggiornamento di mercato non vi resta che salutarvi, che augurarvi una buona domenica sera e rimandarvi alle solite cose quindi commentate quindi commentate il video mettete mi piace sulla pagina Facebook l'Italista Credicone l'Italista Credicone Channel YouTube alla nostra pagina al nostro gruppo Facebook l'Italista Credicone ma con il l'azzurro nel cuore e soprattutto alla nostra sempre aggiornata e sempre sul pezzo canale Facebook sul nostro sempre aggiornata e sul pezzo canale Facebook l'Italista Credicone Channel quindi ragazzi non vi resta che salutarvi che rimandarvi rimandarvi ovviamente non mi resta che salutarvi rimandandovi ai prossimi aggiornamenti e ovviamente riuntatevi di amare sempre e solo la fottutissima maglia